Oggi tratto di un tema molto particolare, molto delicato più che molto particolare perché tratto il tema delle persone che hanno fibromialgia e che sono depresse perché nessun trattamento funziona quindi capirai che quando io propongo qualcosa che funziona, perché centinaia di pazienti hanno provato il mio sistema, sono contenti io stesso ho avuto 20 anni di dolori cronici e adesso ho pochissimi sintomi capire che quando tratti queste tematiche rischi di entrare in una specie di competizione con le persone che fanno il mio stesso lavoro e ti dico fin da subito che non voglio che sia quella la finalità io voglio solamente spiegarti come lavoro e perché ho così per dire cambiato chip all'interno piace questa espressione, all'interno del mio sistema di lavoro uso spesso questa espressione, cambiare chip perché quando tratti i dolori cronici di solito tutto quello che vale per i dolori, chiamiamoli normali cioè mi arriva una persona che ha mal di schiena, una persona che sta molto alla scrivania e oddio mi si è incriccato il collo, Michele aiutami ho uno sportivo che dice mi alleno troppo, ho mal di schiena, mi fa male l'anca ecco tutte queste regole che usiamo per le persone che non soffrono di dolori cronici per le persone che soffrono di dolori cronici vengono stravolte questo perché ho la risposta ma non ho la risposta i dolori cronici, la fibromialgia non la conosciamo bene la ricerca sta andando avanti però devo dire la verità devo dirti la verità ma si sa, non la conosciamo bene, te lo può dire qualsiasi medico cioè io posso sapere che cosa succede quando uno mi viene con la contrattura al trapezio ma non posso sapere le cause interne reali della persona che viene con un quadro fibromialgico complesso quello che si posso fare è dirti che i sintomi si possono diminuire drasticamente tantissimo, addirittura posso eliminare tantissimi dei tuoi sintomi questo perché lo posso fare? perché ho capito un po' le regole dei dolori cronici e su questo proprio si basa il mio sistema per questo ho creato una piattaforma online proprio di percorsi per gestire, eliminare i sintomi della fibromialgia e dei dolori cronici e proprio perché ho cambiato chip quando sei un fibromialgico, una fibromialgica e un altro dolore cronico non puoi fare sport come fa una persona che non ha fibromialgia ti sei reso conto, a volte solo camminare velocemente ci innesca dei sintomi non puoi alzare le braccia tanto tempo, alzare dei pesi così ma anche di 1 o 2 kg perché ti si infiamma il collo per esempio quindi ci vogliono altre regole adesso queste regole tu mi dirai ok dimmeli nel video e la situazione è molto complessa nel senso il quadro è complesso proprio per questo ho aperto un canale youtube ho aperto il mio canale instagram se non mi segui anche lì seguimi anche su instagram perché queste cose devo spiegatele poco a poco cioè il corpo della persona che ha dolori cronici deve venire studiato te lo presento all'interno dei miei canali poco a poco la mente anche, il mindset cioè dobbiamo capire come i tessuti del corpo anche la mente si comporta avendo la fibromialgia quindi questo video non è che ti spiegherò adesso ti spiego 1, 2, 3, 4, 5 perché ci vuole un percorso ci vogliono dei video anche lunghi che ci sono già su youtube c'è già un materiale su instagram però il titolo di oggi è appunto perché bisogna cambiare chip perché le persone non hanno risultati a volte perché non devi trattare queste cose come tratteresti un mal di schiena gli esercizi devono essere diversi il sistema deve essere diverso io sono specializzato anche in mobilità per sportivi prevenzione e lesioni ho lavorato tantissimi anni e lavoro ancora con atleti di alto livello non mi permetterai mai di usare le stesse tecniche per un paziente di dolore cronico se prendo un atleta e prendo un paziente di dolore cronico uso sistemi proprio totalmente diversi tempi totalmente diversi esercizi totalmente diversi quindi ricordati che evidentemente devi fare cose diverse devi prendere sistemi diversi che sono adatti ai dolori cronici mi dirai come hai imparato questi sistemi? perché li usi? io ho avuto 20 anni di dolori cronici e in più ho il mio sistema che unisce la fisioterapia allo yoga terapeutico perché io alla fine devo la risoluzione dei miei sintomi proprio all'unione di queste due discipline lo yoga terapeutico ben fatto che non è fare le posture che trovi su google che scrivi yoga e inizi a fare posture a caso ma sono posture elaborate esercizi elaborati molto specifici che variano in base a ogni persona con il quale riesci a rifunzionalizzare il corpo unendo queste conoscenze la fisioterapia diciamo che sono riuscito anzitutto ad eliminare i miei sintomi a gestirne tantissimi perché alcuni pochi e in poca intensità ce li ho ancora in certi momenti e riesci proprio a stravolgere in positivo il tuo corpo e quindi a uscire da questa situazione con questa unione sono riuscito a farlo io su di me sono riuscito a farlo con centinaia di pazienti e continuo a farlo quindi se vuoi iniziare a capire qualcosa della fibromialgia dei dolori cronici di altre malattie che comportano dolori cronici inizia a cambiare chip cambia schemi mentali ci vogliono altri sistemi ci vogliono sistemi che siano diversi dai sistemi tradizionali con cui si tratta un dolore acuto o anche cronico per una persona che non ha i dolori cronici ok? ricordati i problemi delle persone con dolori cronici sono problemi delle persone con dolori cronici e vanno trattati secondo certi schemi io adesso ti lascio qui spero che il video ti sia stato utile ovviamente un video teorico poi per approfondimenti ripeto o mi puoi iscrivervi lasciami un commento iscriviti al canale e Instagram e Youtube seguili perché danno notizie diverse in modo diverso e tutti e due ti fanno capire le cose e poi c'è la mia piattaforma di esercizi è un percorso gratuito quindi ti mando 5 email con 5 video capisci come lavoro come sono questi esercizi come lavorano questi esercizi all'interno del tuo corpo e poi c'è anche la piattaforma completa dove hai tutto dei percorsi sequenziali per gestire ed eliminare i sintomi ci vediamo al prossimo video grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti